Torniamo a parlare dell'operazione di polizia denominata l'Anno del Gallo che ad aprile portò all'esecuzione di sette misure cautelari per spaccio di cocaina e marijuana tra Catania e Leonforte. Nei giorni scorsi, in merito alla vicenda di aprile scorso, la Polizia di Stato ha eseguito quattro misure cautelari a carico di altrettanti soggetti arrestati a Catania e Leonforte in provincia di Enna, in esecuzione del provvedimento del PM titolare dell'indagine presso la Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Si tratta di Francesco Balsamo, 48 anni, residente a Catania, Enrico Pizzuto, 43 anni, residente a Leonforte, Corrado Conti, 30 anni e Giuseppe Bannò, 28 anni. A seguito di lunghe e laboriose indagini si è accertato che nel 2016 tra Catania e Leonforte, Balsamo e Pizzuto acquistavano, ricevevano, detenevano illecitamente e cedevano a terzi stupefacenti come cocaina e marijuana. Conti e Bannò, invece, sono accusati in sostanza di acquistare, trasportare, confezionare, consegnare e vendere cocaina e marijuana. La complessa indagine ha documentato l'esistenza di un gruppo criminale, gestito e organizzato da Enrico Pizzuto, che avvalendosi della collaborazione di alcuni pusher locali, riusciva sia ad approvvigionarsi di marijuana e cocaina ad alcuni fornitori etnei, che a curarne la successiva immissione sul mercato locale. Le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno consentito di dimostrare che Pizzuto si occupava dell'approvvigionamento della droga, curandone poi anche la distribuzione tra i vari pusher per la conseguente vendita al dettaglio. È stata acclarata, infatti, l'esistenza di un rapporto di collaborazione criminale tra il malvivente e una fitta e consolidata a rete di altri spacciatori, nello specifico Giuseppe Bannò e Corrado Conti, questi ultimi dediti soprattutto al confezionamento e allo spaccio dello stupefacente. Per il rifornimento della cocaina e della marijuana Enrico Pizzuto si rivolgeva prevalentemente a diversi fornitori e in particolare al catanese Francesco Balsamo, già condannato nell'ambito dell'operazione nickname. Dicevamo che lo scorso aprile fra i sette indagati figuravano anche Balsamo, Pizzuto, Conti e Bannò. Dopo ulteriori accertamenti da parte della Polizia di Stato, l'appello, che a suo tempo fu presentato dal PM, è stato accolto dal Tribunale del Riesame di Caltanissetta, che ha applicato agli indagati una misura cautelare più grave rispetto a quella a cui erano già stati sottoposti nel corso della prima fase dell'indagine o di cui non erano mai stati destinatari. Di contro, i difensori degli indagati hanno presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, che però è stato respinto, rendendo esecutivo il provvedimento del Tribunale del Riesame di Caltanissetta. Per questi motivi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla decisione del Tribunale del Riesame e pertanto Balsamo e Pizzuto sono stati tradotti in carcere mentre Bannò e Conti ai domiciliari.